Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Come possiamo notare dall'immagine, una vasta circolazione di bassa pressione posizionata sulle isole britanniche invera impulsi perturbati su tutta l'Europa centro-occidentale e interessando questa volta anche alcune zone del nord. Al centro-sud invece è sempre dominio dell'alta pressione africana. Nel dettaglio la nuvolosità anche compatta al nord, nubi alte sulle regioni centrali, più sole al sud. In sintesi questa mappa della nostra penisola che ci evidenzia la giornata a tratti nuvolosi al nord con deboli piogge nord-ovest e poi alpi di nord-est. Qualche pioggia anche sull'Appennino tosco-emiliano. Altrove invece stabilità, clima asciutto e soprattutto molto mite. Tocchiamo ancora i 25 gradi. Tutti i dettagli, gli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo.